abbiamo preso possesso del tetto io ci devo salire sul tetto faccio prima a suicidarmi che salire sul tetto si vabbè qua hanno fatto le costruzioni degli astechi qua porca miseria guarda qua che casino va 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 ok sono sul tetto ma che ca... ma no ma ha tolto le armi ma chi è che spara ancora raga scusate eh oddio meno 30 raga meno 30 meno 29 shh madonna se non stanno zitti questi lo gli gonfio io basta quando le persone che giocano a forza ne sono idiote check madonna mia addio guardiamo nell'acqua shh oh guarda tipo dei cosi delle antenne sono uscite dall'acqua no dall'acqua dall'acqua sono uscite dalle antenne un'altra di là sta uscendo oddio dio levati che non vedo che casco di sotto c'è qualcosa che lucica c'è qualcosa c'è qualcosa no mo prendiamo il volo partiamo con l'agenzia e andiamo sulla luna oh perché no no che bella la musica zitti zitti oddio e levati tu che cavolo stai a fa là oh no ragazzi ancora no vabbè no vabbè che cos'è oddio 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 sono caduta in acqua raga non so dove sono oddio no l'agenzia distrutta oddio 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 ma che è sto coso raga ma che è sto coso raga oddio 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 ma che cazzo povere c'è un sacco sto volando che figata c'è un sacco la bolla oh ma io posso risali su raga ma sono l'unica che sta dentro l'acqua oh wow oddio oddio raga sono tutta viola sono tutta viola sto volando sto fluttuando sto fluttuando ma mi posso muovere? si mi posso muovere piano piano no vabbè ma che cosa spettacolare oddio stiamo volando che cosa no raga ma che cos'è oddio che cosa spettacolare manda via la co oddio no sta mandando via la la tempesta sta mandando via la tempesta oddio oh sto in piedi me so abbronzata raga me so abbronzata ma raga sto dentro l'agenzia che succede? ma ero dentro l'agenzia cado? zitti raga zitti no vabbè no vabbè che cosa bella no vabbè raga è meraviglioso cioè aspetta l'ha mandata via ma è tornata perché io è come se fossi dentro la tempesta questo è precipitato da dove? oh sono viola si viola ancora raga mi sta mi sta tirando verso di lei oh dio oh dio raga tu cerca di rimandare via la tempesta no sta tornando la tempesta la rimanda via di nuovo vediamo se stavolta Iafa si rimanda via anche noi però ma no 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 voglio atterrare qua sopra voglio atterrare qua sopra ha vinto ha vinto la tempesta e quindi non ha vinto la tempesta ha vinto la vida ha vinto la vida no guarda oddio oddio mamma mia che bug raga che succede non mi posso muovere oddio guarda che figo è bellissimo guarda come si sta tutto ma dove ci porta sta tornando giù no raga non voglio finire in un buco oddio che cavolo misoria abbronzata sono di nuovo nell'agenzia silenzio non c'è niente di stabile qui siamo a M Janice Janice oddio oddio devo uscire e questo cosa significa ecco ecco quindi siamo in acqua no devo stare lì sopra raga devo andare a vedere meglio la situation devo fare come no non siamo sott'acqua siamo sott'acqua ma che cosa fantastica no raga che cosa fantastica guarda lì ma cos'è uno squalo quello mi sono riabbronzata di nuovo stasera non mi serve l'autobronzante ha funzionato siamo sotto l'acqua la situazione inizia a stabilizzarsi ma 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 che ma come aspetta 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 riesci riesci a sentire riesci a sentire oh oddio ma oh che cavolo che cavolo è successo che cavolo è successo credo raga ma che cavolo oh mio dio anch'io no raga ma è tutto è tutto quicciato non può succedere altro è strano sta roba no io raga voglio atterrare voglio atterrare all'agenzia vieni no ma mu viene cioè è stato ma no in mezzo alla tempesta però voleva atterrare tipo cioè ma raga ma siamo in partita sempre è finito così no non finisce qui raga non finisce voglio vedere lì ma se entro nell'acqua che succede è una tempesta cioè è una tempesta quindi se io passo no ma nuoto raga è figo no oh guarda che nuoto ma che figata no è fantastico io voglio entrarci no ma non voglio perdere la vita voglio nuotarci dentro è bellissimo è come la tempesta per divini tu che vuoi vai via vai via è la nuova tempesta che figa no ma sto morendo non voglio è tutto è tutto è così è così il gioco devi oh fai la tua scelta voglio un cecchino voglio un cecchino di alta precisione io vado nell'acqua è bellissimo Ale puoi nuotare no vabbè raga guardate che bello ci sono i pesci ma sono pesci quelli ma è bellissima vabbè ma mo l'agenzia rimane così tutta rotta ma qua hanno fatto un cuore che carino raga hanno fatto un cuore hanno fatto un cuore hanno fatto un cuore voglio entrare nel cuore sono nel cuore è stato eliminato nella tempesta ma cavolo c'è un po' di uscire dal male dall'acqua il video termina qui se vi è piaciuto mettete tanti like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto attivate la campanellina per non perdervi nessun video e live in uscita inoltre vi aspetto sulla mia pagina facebook e instagram alla prossima ciao ciao